Invece, tutti i lavori ultimati, abbiamo scritto una data di ipotesi dal 2026, quindi dirà che a fronte dell'entrata in funzione anche del portale 5, verrà ripristinata e adeguato l'utilizzo della complanare a doppio senso di circolazione. Proprio l'uso e la riattivazione della complanare a doppio senso consentirà di mantenere gratuito il tratto da Castagnito fino a Rondi, evitando così quello che avrebbe potuto essere un appesantimento del traffico sulla Statale 231 sul Corso Asti, che quindi sarà scongiurato dalla presenza proprio di questa complanare. Pertanto, se io utilizzerò la complanare in ingresso e mi reccherò o fino all'uscita a Rondi, oppure anche andando all'ospedale, quindi passando sotto il portale 6, uscendo e smarcando sul portale dell'ospedale, avrò la totale gratuità. Così anche in direzione opposta, quindi da Rondi Castagnito o dall'ospedale, recandomi verso Baraccone, dovrò utilizzare la complanare per uscire. Se utilizzo l'autostrada, pagherò soltanto il tratto che andrò a percorrere dietro.